eccoci qui oggi con gli isolati fenomeni ciao 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 lara ciao a tutti gli amici di garage and roll allora benvenuti ci portate verso la vostra sala andiamo andiamo Loredana voi siete stati addirittura un poster di cioè un iguana generazionale abbiamo scoperto gli altarini nell'86 abbiamo scattato questa foto e cioè ci ha pubblicato e guardate come siamo oggi praticamente uguali ma non è vero è uno scatto del 2009 va bene ok adesso lara si presentano loro guarda i nuovi li facciamo dire a loro direttamente sono ognuno dice il suo è certo certo Aldo Alessandro Eugenio e Leonardo allora dicevamo appunto che Asteroid è il primo Aldo che si tosta si vuol dire vuol dire che ce l'ho qui vedi è bellissima non l'ho mai vista così creativa e originale in questo senso oggi direndo direndo quello che dai quando tra poco lo saprai tu anche dunqueke l'ho più Grazie a tutti